no lo scroll del mouse è solo per girare le costruzioni caniari che zella ragazzi io mi sono buttato scusate raga non avevo visto non avevo visto che avete messo il puntino non lo sentivo con te scusami non lo sentivo scusa scusate chi è che ha sparato con l'armone a non è lui dove stanno e mo puscio come un dannato verso il giardinetto vai arrivo c'è un altro fatto pure l'altro ce n'è uno in questa casa bella gamba è la madonna delu c'è uno davanti delu ce l'ho davanti delu raga ma mi sentite ce l'ho davanti dentro a zizi ah perché sento altra gente qui io prova a farmeli arrivo morti fatti tutti pozzette varia roba pozzone scudo grande o c'è gente brutta da me arrivo dove sei gianco io non lo so io sono arrivato laser io sono arrivato laser riserva è ancora una pozza da 50 però ce l'ho hai problemi a favore no no ma niente farò il tifo per voi vado bravo hai visto che quando salti in non scopo entra hit la trappola povera ti giuro mi sono preso poverò eh raga mi sono cazzato medikit qua ragazzi li ho qua da me oh mio dio chiuditi 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 dietro 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 penso che non vada più tutto bene ma dietro più o meno dove stanno rispetto a te al lato adesso o al lato sinistro dove c'era la costruzione con la figa prima ok li vedo non cado uno sotto di te gamba sotto di te nel fiume uno non cado dentro pinnacoli ragazzi morto no 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 altra gente sotto ce l'hai accanto gabbo lasciami i cazzi gamba io ho una pozzetta io ho le pozzette gabbo se servono ci siano sette guardo sì due qua io ne ho altri di colpi i lanciarazzi li lascio thank you very much 22 paolo cannone li vedo ma non posso mettere il puntino ragazzi non vi nascondo che sono one shot a merda uno fatto sì ce n'è un altro lì a quello in volo power l'hai fatto a tiro il piattello sì sì esalta merda accade un altro dietro le scale in fondo in fondo altro headshot arrivano anche da fuori safe raga a est noccato one shot quello sopra è una torretta robot quello fuori safe è già noccato fagli cadere quella cosa fagli cadere la scala muore dal danno è salvato ce l'hai di sotto a destra va verso sud ok lasciate del materiale tieni gamba raga vi giuro stavo guardando power uno che aveva l'abilità fa tutto tipo un salto tiro al piattello gli ha tolta la vita tutto lo so fizzato troppo bello no l'ho detto che ora mi sono rotto il cazzo ah tanto addio in safe ho detto mo mi girano i coglioni mo vinciamo tutto raga gamba 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 c'è gente sì sì qua da me sì arrivo ci vediamo in safe boys c'è una cosa che non ci lo spaccano se no lo devi rimettere c'è gente davanti mi pingo la gente al giallo ok ma se ci spaccano sta roba sono dei matti cioè come fai no no devono sparare a me tanto se la vogliono spaccare ma devono sparare a me se la vogliono noccare cioè se la vogliono spaccare 4 mi ha fatto infatti a metterne 4 così cosa? ti hai messo un po' a farlo o...? ma cosa? a metterne 4 così no 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 mi stanno sparando sono in 4 ah no sono 2 che qua ma no per gli altri ma fossero 4 che qua è arrivata la cavallaria zio eh ce l'ho davanti davanti lì? ok io non ho cado direttamente lì raga un altro headshot si riesce a incomodare o lo ammazzo eh uno è sotto di noi eh bravo delu mi ha due raga delu continua a buildare li copriamo noi oddio eh no no vabbè era tranquilla la cosa se riesci a salire io vado in safe Gabbo non ti preoccupare si sta salendo tutto a posto basta che riesci a farmi i muri peccato ho esagerato scusatemi ho gridato troppo dai lo sto salendo sopra di te ce l'hai sopra chiuditi chiuditi ce l'hai sopra ora sotto è passato nel suo muro Gabbo io dobbiamo fare quello sopra bravo delu fatto bravo figlio di puttana tra di vita raga guardatemi un attimo ma ti ha passato il muro quando l'hai messo eh è il suo insomma quello che è sotto che non sta se si toghi fai coglione vedi manca l'ultimo Gabbo sta munito vedi dove sto sparando fatto bella ragazzi gg si si questo questo lo trovate fatto si si scusatemi avevo esagerato io prima poi tranquillo è che dopo un po' è normale mi hanno sparato 20 colpi di cecchino direi che è normale che a un certo punto mi piglia prima o poi dove capita il distanza dai devo prendermi qualcosa sotto c'è una trappola sopra sopra vediamo i materiali devo prendere raga stanno salendo oddio lo prendo sotto 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 un cecchino si penso a quello sopra ma vero hai fatto in alimentario? ehm no però posso prendere qualcosa se vuoi ti lascio qui io mi curo venite qua venite qua se volete il ceccoro ve lo lascio se volete il ceccoro tieni delu altri colpi se volete il ceccoro ve lo lascio l'ho lasciato ampi ampi attenti io non ho cura gabbo verso di là esatto ho sentito uno sparo io zona più bassa più bassa della montagna alta ma bassa anche verso di gabbo sinistra sinistra povero sinistra ho visto un contro l'ho hittato no ma dio sa un millimetro attento che c'ha quello rafficone bra dove l'hai noccati gabbo 195 ragazzi li stanno andando a restare ce l'ho qua accanto visto 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 fatto non picca più andati gamba ce n'è uno qua ne hai uno sotto delu ne hai uno sotto anche te una dove stiamo noi no ho sbagliato l'arma ho sbagliato l'arma ma basta ce l'hai dietro ce l'hai dietro ce l'ho qua fatto chiuso fatto altre che sparano fatto ti lascio le pozzette oh al medikit mi serve solo le pozzette tieni le pozzette lasciate quelli sulla montagna ci sono ancora state pronti che sto per fare il mio record di kill mettetevi le cinture perché si viaggia ora in drago perché questo modalità dragone giapponese colpino c'era 10 merda 10 sparano da sopra è lui che sta sparando troppo ameli quando vuoi si qua 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 l'ho già lasciato ce l'ho qua ce ne sono tantissimi altri occhio dai lui ho bisogno che tu gli riesco a sparare dei colpi di lanciarazzi e pian piano ma vicino sparo merda io non ho materiale te lo troppo qua se vieni io sono dietro basta altra gente che sale arriva arriva dai che devo fare il mio record non rompete i coglioni ora no delu mi è bloccato eh niente manca un altro e faccio il record va sotto manca una e faccio il record è sopra da me è un one shot facci tu no no vabbè non è un problema dai lo faccio 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 che intanto riprendo le pozze e il resto ma prima ti avevo bloccato perché gli volevo saltare addosso non volevo no provano è qua sotto eccolo ok bella gg 24 peccato niente 25 e vabbè ci sta se ne fossero altri sorry ma bad non vuoi regà a un certo punto sono impazzito da quando ho visto Gabbo a terra là gli occhi mi sono diventati rossa o sangue guarda che quando ti hanno messo sotto li ho fatti tutti e qua grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.